C'è davvero una grande soddisfazione nel vedere la Fano Grosseto e la Galleria della Guinza inserite tra le opere prioritarie nel decreto semplificazione. È un'opera strategica per tutto il tessuto industriale e turistico della nostra regione ma anche per tutto il paese. Questo è un traguardo molto importante raggiunto dal nostro governo dopo che per tanti, troppi anni, i governi precedenti non hanno fatto niente. C'è stato un po' di immobilismo rispetto a quest'opera. Ora dovrà essere nominato un commissario straordinario che avrà un ruolo fondamentale così come l'abbiamo potuto già vedere nel Ponte Morandi e sarà da collettore, sarà il punto di riferimento per tutti i comuni quindi tutti i sindaci, le associazioni che potranno portare a lui le loro richieste e avrà anche il quadro generale di tutta la situazione dello stato di avanzamento dell'opera. Il modello del commissario straordinario era un modello fortemente voluto dall'ex ministro Toninelli che aveva già previsto questo nello sblocca cantieri. Noi tutti del Movimento 5 Stelle, dai parlamentari ma anche i consiglieri comunali abbiamo spinto attraverso il sottosegretario Traversi che ringrazio ancora una volta abbiamo spinto affinché poi si concretizzasse. Con il Ponte Morandi infatti si è visto che quando si va in deroga all'enorme burocrazia che paralizza il nostro paese la nostra macchina viaggia veloce e riusciamo a dare risposte concrete e importanti a tutti i cittadini.